Siamo con Marco Martina al termine di Feralpi Salò su Tirol 2 a 1, per te era una gara da ex, come l'hai vissuta? Ma sicuramente ha fatto piacere rivedere i compagni, lo staff che comunque conoscevo visto che ho fatto la 5 anni, è stato bello ritrovarli e comunque li sento ancora, quindi c'è un ottimo rapporto, però oggi contava solo il campo e la vittoria. È stata una vittoria importante, si parla anche di scontro diretto, di fatto su Tirol aveva solo 3 punti in meno alla vigilia di questa partita, sono punti che contano, che vi rilanciano in classifica e che danno quella continuità che state cercando? Sì, contavano molto anche perché loro, visto che venivano da 7-8 risultati utili consecutivi, quindi era sicuramente come ogni domenica una partita tosta, noi l'abbiamo preparata benissimo e l'abbiamo dominata per gran parte della gara e sono 3 punti fondamentali per il processo del campionato. E soprattutto l'avete sbloccata nelle prime battute e siete subito riusciti a raddoppiare portandovi in vantaggio di due gol, una cosa che ha messo in mostra anche questo cinismo che magari in altre partite era mancato. Sì, forse come hai detto te a volte partivamo un po' blandi, lenti e invece stavolta subito gol, il raddoppio, l'abbiamo messo subito in discesa. L'abbiamo gestita per gran parte della partita e secondo me è stata una vittoria meritata. Grazie a tutti.